Questa sera ci siamo voluti fare un regalo meraviglioso in una serata storica anche per il Gambrinus. E' per me un grandissimo onore e piego il capo davanti all'ingegnere Corrado Ferlaino. Buonasera ingegnere, grazie per essere con noi. Ingegnere Ferlaino, è chiaro che lei ha vissuto da grandissimo protagonista, da fautore, i primi due scudetti della storia del Napoli. Com'è stato viverlo da tiposo, questo scudetto? E' stato come lo vivono tutti i tifosi, partita per partita. Bisogna rendersi conto che il Napoli dopo un inizio leggermente incerto, è partita la grande. Da metà campionata in poi ha giocato sempre con 15, 18, 20 punti rispetto alla seconda. Quindi è stata una marcia trionfale del Napoli e quindi tutti noi tifosi napoletani ne siamo gradi ai giocatori, ai spalletti, a giunti, a chi ha fatto questa squadra e al Presidente. Ma oggi De Laurentiis è diventato il suo erede, Presidente? Il calcio Napoli non è un regno, non c'è un re e non ci sono gli eredi. Però lei lo sente più vicino adesso a De Laurentiis? Perché ha riportato lo scudetto a Napoli? Io sono un tifoso come tanti tifosi stanno a Napoli. Io ho 33 anni della mia vita a Napoli, ma oggi sono un tifoso qualunque. e voglio bene soprattutto al Napoli e voglio bene soprattutto alla città di Napoli. Spalletti un po' come Bianchi anche come carattere, lo sa Ferleino, Presidente, molto chiuso, esce poco la sera, isolatissimo. Però i giocatori lo vogliono bene. A Bianchi no invece. Ma così può dire. E' andato in prescrizione dopo tanti anni. A Bianchi poco. Veramente i giocatori hanno fatto un documento contro Bianchi che dire al Presidente caccia via Bianchi. Siccome non è mai successo che i giocatori licenziano un allenatore, io ho licenziato 5 giocatori. E' stato un danno enorme per le casse del Napoli perché per ricomprare altri 5 giocatori ce n'è voluto. Però è arrivato Carrega, sono arrivati altri giocatori, quindi va bene. Non male. Ma sbagliò a trattenere Bianchi contro la sua forza? Sbagliò a trattenere Bianchi che voleva andare via, secondo lei, col senno di poi? Non è mai voluto andare via. Guardi, nessuno rinunzia a un autostipendio, quindi non creda che lei vuole andare via. Lo potevano dire agli amici, ai giornalisti, ma non è mai voluto andare via. Come Spalletti più o meno, che secondo me pure lui. No, lo so, Spalletti è un problema vostro. Lei ha un allenatore che ha vinto lo Scudetto. Che fa? Dice, vabbè, questo è il contratto, lo rispetti, punto e basta, o lo chiama, vieni qua. Tu hai vinto lo Scudetto, io adesso ti faccio un contratto di 2-3 anni, ti adeguo lo stipendio. Che cosa fa l'ingegnere Ferlaino? No, io ho un carattere, Dell'Aurentis ne ha un altro, quindi quello che fa Corrado Ferlaino non è detto che dovrebbe fare Dell'Aurentis. Dell'Aurentis è un altro carattere. Comunque è un bel duello fra Dell'Aurentis e Spalletti, non so chi vincerà. Non lo so, non lo so, ma vorrei che il Napoli non ne avesse dei problemi da questo duello. Potrebbero nascere? No, lo so, questo qui, però nascono sempre quando ci sta, non c'è grande armonia in una società di calcio. Lei, Presidente, ha fatto dei sacrifici enormi per mantenere Maradona a Napoli, quindi... Maradona non era un allenatore, però è un'altra cosa. Però, insomma, è stato importante anche questo. Maradona era un grande professionista, a un certo punto il suo enduraggio voleva farlo andare a Marsiglia e in altre parti, dove avrebbe guadagnato anche di più. Però lui aveva il contratto, io l'ho chiamato e ha detto rispetto al contratto e mi resta qui. E dopo tutto era anche innamorato di Napoli. Sì, sì, è bello. E Napoli gli ha innegrato fino al punto che lo adora ancora. Eh beh, direi di sì. Direi che c'è una devozione. Presidente, lei voleva fare una domanda, una curiosità, una battuta questa. Ma io ho visto più maglie e buitoni. Ma come funziona? Lei può chiedere i diritti a buitoni? Insomma, buitoni è una pubblicità. Sarebbe straordinario. Dopo 30 anni ha una pubblicità a buitoni. Sono più buitoni che quelle di adesso. L'ho notato anch'io. Buitoni ha una pubblicità gratis quasi. Dovrebbero pagare delle rimesse a Napoli. Presidente, ma in Marsiglia ve la fece l'offerta economica? Come no. Quanto le offrì per Maradona? Mi mandò un assegno, mi volevo mandare, un assegno firmato in bianco. Doveva metterci la cifra. Più di questo. E lei ce l'ha messo la cifra. Non ci pensavo, sapevo l'assegno. Amo Napoli. Sempre abitato a Napoli. Quando sono andato fuori per un anno, due anni, poi mi è venuta la saudade, la nostalgia. Sono ritornato di corsa a Napoli. Davvero, se vive a Roma, non sente la spinta dei tifosi napoletani. Quindi può decidere con maggiore sicurezza e con maggiore... Posso fare una domanda al Presidente Marco? Prego, farei una domanda al Presidente. Posso prima? Allora, prima a lei, professore. Prego, professore. Perché mi colpì molto quando il Presidente raccontava un po' la storia della sua esperienza a Napoli. Usò una frase. Per me, insomma, essere il Presidente del Napoli, quindi stare per 33 anni, è come aver cavalcato una tigre per 33 anni. Lei usò questa parola, Presidente, no? Chi? Sì, io? Lei? Sì, beh, certo. Cavalcare una tigre. Io ho avuto una relazione con le investizioni, ho avuto le bombe sotto casa, ho vinto due scudetti, una Coppa UEFA, una Coppa Italia. Due scudetti? Due scudetti, Coppa UEFA, Coppa Italia. Ecco, più di queste non potete vincere. Sono arrivati insieme. Quella è una vittoria dopo l'altra, è vero, Presidente? A un certo punto sulla maglia del Napoli non c'era più spazio. La Coppa UEFA è la Coppa Italia. È la Coppa dei campioni di oggi. È vero, è vero. Quindi, più di quello. Pino, vai. Due cose. La prima, quando vinse lo scudetto del 90, immaginavo che ci sarebbero dovuti passare altri 33 anni per vincere un altro. Il primo scudetto, no. Il secondo. Il secondo, quello del 90. Io l'avevo detto a me stesso, siccome io non penso che ci sia la professione di Presidente del Napoli. Il Presidente del Napoli è un amore a qualche cosa, ma io sono ingegnere, lavoro, e non facevo di professione il Presidente del Napoli, quindi io prima o dopo me dovevo andare. E ho giurato che dopo il primo scudetto me ne sarei andato. Poi c'era la Coppa, c'era la Coppa Champions, eccetera, sono rimasto. Ma quando ho vinto il secondo scudetto, per me era finito. Quindi, arrivato a quel punto, però non c'era nessuno che voleva comprare il Napoli. A nessun prezzo. È vero, lei disse questa frase, ma io lo do gratis. È vero, non si presenta neanche... È vero, è vero, è vero. Veniamo alla grande festa che c'è stata. Le immagini che ha visto in televisione, Presidente, che effetto le hanno fatto? Per dire, qui siamo a Piazza del Biscito, non c'era un ago a Piazza del Biscito, lo spazio per un ago non c'era. Non c'era anche di più. Non c'era spazio per un ago qua. Lei doveva andare per... È arrivata una giornalista argentina, tra l'altro molto legata a Claudia, Maradona, eccetera, eccetera. Lei l'ho portata a vedere i quartieri, i quartieri spagnoli. Devi vedere là cosa ci stava. Era impossibile camminare a piedi, non con la macchina. Era una tale quella folla, tanto di quella folla che non si poteva passare per andare al Piazza Maradona. Però è stato bellissimo. È stato un momento di cui... Posso dire una cosa? Più adesso vive la passione dei napoletani, che la vedono, l'abbracciano, la salutano, che quando era presidente, forse. Quando era presidente era troppo impegnato a portare avanti una, diciamo così, un'automobile difficile da guidare. Però devo dire che mio padre mi portava, quando io tenevo cinque anni, mio padre mi portava alla Scarelli. Quindi io ho vissuto praticamente il tipo di mio padre e poi dopo me l'ha ereditato a me. Il quattro finisce il campionato, quindi il Napoli ha già vinto lo scudetto, ma diciamo così, la più grande festa sarà il quattro, il compagno è bello. Però io il quattro mi sono preso già i biglietti per andare a Buenos Aires e voglio andare a Campo Fiorito, questa Maradona. Perché voglio, quel giorno praticamente voglio passeggiare con il mio amico Maradona. Oh, che bello, ci sta dicendo una cosa bellissima. Lui forse non c'è, certamente non c'è più, però chissà se ci guarderà dall'alto, chissà se in un modo o in un altro mi darà un segnale che lui è contento che ci sono andato a trovare. Ma lei ci crede a questa storia che raccontano un po' tutti? Cioè l'Argentina che non vinceva più un mondiale, nonostante queste squadre, subito dopo il Napoli che vince lo scudetto. È come se Diego dall'alto avesse detto ok, andate. Lei ci crede? Non lo so, però non so se dall'alto ci sta qualcuno, ma se c'è qualcuno, se ci sta Diego, certamente è qui con noi praticamente. Forse sta anche in questa camera. Però voglio dire una cosa, ha vinto anche il Barcellona, con cui non è che andava proprio tanto d'accordo, quindi voglio un attimo, vince anche il Barcellona quest'anno, quindi ha fatto vincere tutti Diego. Ma lui si è distratto un po' con il Barcellona. Si è distratto, ha fatto vincere il Barcellona. Non l'ha fatto vincere, si è distratto e il Barcellona vinto.